Certe sfide nascono per essere vissuti insieme perché sono sfide che riscrivono la storia notti dove le grandi stelle si scontrano notti in cui bisogna soffrire, in cui bisogna crederci in cui si deve lottare, sudare, sognare notti in cui per vincere, restare uniti, è l'unica cosa che conta queste sono le notti che aspettiamo perché queste notti nascono per essere vissuti insieme finola fina